Dopo il test di lusso contro la Fiorentina, un'altra squadra di Serie A arriva al comunale per un amichevole con l'Arezzo ed è l'Empoli. La squadra Maranto è uscita tra gli applausi riuscendo a strappare un pareggio figlio di una prestazione gagliarda e di personalità. Empoli in vantaggio all'ottavo, fallo dipinto su Caputo e trasformazione del capitano azzurro. Serrotti sfiora il pari e Taure il raddoppio mettendo fuori su un errore di Pelagatti. Al trentatresimo l'Empoli si fa sorprendere da un lancio di Serrotti per Cutolo che trova l'angolo lontano con un sinistro precisissimo. Il primo tempo si chiude con un palo dell'Empoli con Ucan, al quarantesimo la squadra di Andrea Zoli cambia quasi tutto nella ripresa concedendo più spazi ad un pimpante Arezzo che alla fine conquista il prestigioso pareggio. Oggi ci siamo comportati bene e poi loro sono una buonissima squadra quindi magari qualche errore l'abbiamo fatto, abbiamo concesso qualcosa però serve anche a questo. Meglio farli oggi che domenica prossima. Queste partite servono per mettere ancora minuti nelle gambe e adesso dalla prossima settimana insomma cominceremo a preparare la partita contro la Lazio e da lì insomma rinizia il campionato che sarà lungo però per il momento ci stiamo facendo bene.